Salve a tutti ragazzi, un saluto a Andrea Vereva, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, video post partita del match Regina Cagliari, terminato con la vittoria per gli uomini di Claudio Ranieri, ben per 4-0. Un risultato veramente rotondo da parte della squadra Rosso-Blu, video doveroso, lo faccio il giorno dopo perché come vi avevo accennato nella community di Youtube, ieri ero a lavoro, non ho potuto vedere il match in diretta, poi ieri sera ero fuori a cena con amici, per cui ho detto ok, domani mattina, quindi stamani, domenica, mi riguardo il match, me lo guardo tutto perché ci sta assolutamente e poi successivamente faccio un'analisi su Youtube. Ecco qua l'analisi, sicuramente è una vittoria fondamentale, una vittoria importante che dà continuità dopo il successo casalingo contro Lascoli, dopo aver vinto 4-1 facciamo altri 4 gol in trasferta e non è affatto scontato perché il Cagliari comunque torna finalmente la vittoria fuori casa, non lo faceva da settembre se ben ricordo da Benevento Cagliari 2-0 e lo fa contro una regina che sicuramente non se la sta passando bene, indubbiamente in questo giro di ritorno la squadra di Filippo Inzaghi non sta facendo bene, ma questo aspetto secondo me è un aspetto fondamentale dal punto di vista del Cagliari perché il Cagliari lo sappiamo storicamente è una squadra che risuscita i morti. Essere riusciti invece ad andare a Reggio Calabria e a imporre il nostro gioco, fare la nostra partita, la nostra prestazione veramente molto attenta in fase difensiva a parte qualche piccola sbavatura dove fortunatamente ci ha pensato Radunovic a rispondere presente, ma in generale è una prestazione veramente convincente dove tutti gli effettivi, tutti coloro che sono scesi in campo hanno dato il loro contributo. Siamo stati sicuramente anche abbastanza cinici, specialmente nella prima parte comunque di gara perché indubbiamente il Cagliari a parte due gol nel primo tempo ha avuto forse quell'opportunità con la Padula sul cross di Zappa, ben imbeccato da Zappa in quell'occasione della Padula dove l'attaccante manda alto con il colpo di testa, prima però appunto il Cagliari aveva trovato il gol dell'1-0 con proprio la Padula, bravissimo Azzi sulla sinistra, il cross in mezzo da parte dell'esterno, con la Padula che prima colpisce di tacco, forse volontariamente, forse involontariamente, Colombi riesce in qualche modo ad essere reattivo e a rispingere, ma poi sul tapin vincente della Padula non può nulla. 1-0 Cagliari, dopo 60 secondi però sbavatura difensiva del Cagliari perché Azzi si perde Canotto che di prima intenzione su un cross dalla sinistra colpisce col piattone bravissimo Radonovic in quell'occasione a rispondere presente. È un Cagliari che in generale comunque tiene bene il campo, squadra corta, squadra che quando può verticalizza subito va appunto sugli esterni, su Zappa e su Azzi che veramente hanno fatto una grande, grande partita dal mio punto di vista, ma come del resto grande partita anche da parte del centrocampo, da parte degli attaccanti, lo stesso Prelez che comunque si è sbattuto, si è sacrificato, insomma è stata una prestazione secondo me convincente su tutti i punti di vista. Cagliari che poi riesce ad essere cinico come detto perché appunto sul finire di primo tempo riesce a trovare il gol del 2-0, inizialmente Airoldi non si era accorto di un fallo di mano, di un braccio largo da parte del difensore della Regina Camporese, sul tiro di Azzi, quindi fattore Azzi sempre decisivo l'esterno appunto del Cagliari, su quel tiro appunto Camporese aveva il braccio largo, successivamente il VAR richiama Airoldi, Airoldi appunto deve concedere il calcio di rigore che va a trasformare Gianluca alla Padula spiazzando Colombi. Primo tempo che finisce dunque sul 2-0 con una partita che dunque sembra incalanata in favore del Cagliari e il secondo tempo sostanzialmente rinizia proprio come i primi, i primi 45 minuti, con un Cagliari comunque ben messo in campo, deciso, convinto, cattivo, sui contrasti decisi anche da parte dei difensori, Dossena, Obert, veramente ottima la loro prestazione là dietro, riusciamo poi a trovare il terzo gol sui sviluppi di un calcio d'angolo dove appunto c'è un altro fallo di mano, anche in questo caso segnalato dal VAR, calcio di rigore che viene battuto da Marco Mancoso che spiazza ancora Colombi. 3-0, a quel punto la regina sembra veramente scoraggiata, non riesce sostanzialmente più a produrre nulla, Cagliari in completo controllo e alla fine addirittura c'è ancora una volta festa e gloria per Gabriele Zappa. Tra le altre cose non soltanto il secondo gol consecutivo di Zappa, e questa è una notizia fantasmagorica sicuramente, ma il fatto che gli stessi marcatori, appunto, cioè i marcatori di questa partita sono gli stessi del match precedente contro l'Ascoli. È abbastanza particolare come cosa anche nel quantitativo di gol, perché la Padula fa doppietta, Mancoso appunto fa un gol, e Zappa fa il quarto gol, proprio come contro l'Ascoli. Insomma, è una cosa particolare, una continuità anche da questo punto di vista, insomma, speriamo di poterne vedere altre di queste partite, proprio con questa mole di gol e con questi marcatori magari. Ma a parte questo, la cosa importante, ragazzi, è essere riusciti a dare continuità. Sicuramente c'è un po' di namarico pensando a quello che poteva essere la stagione del Cagliari con Claudio Ranieri in panchina, perché ragazzi, veramente, adesso stiamo vedendo una squadra, una squadra con la S maiuscola, i compagni che si danno appunto manforte l'un con l'altro, si corre bene, nella maniera giusta, i raddoppi, i contrasti, i movimenti là davanti iniziano ad essere fluidi, con questo modulo probabilmente, che secondo me è il modulo su cui dobbiamo puntare, questo 4-3-1-2, col trequartista Mancoso, e con i due attaccanti là davanti, ieri c'erano Prelez e la Padula, quando rientrerà Pavoletti magari ci sarà anche lui, insomma, questa secondo me è la rotta da seguire. Credo che Claudio Ranieri l'abbia capito e dobbiamo dare continuità da questo punto di vista, senza chiaramente poi fossilizzarci su questo metodo di gioco, come giustamente ricorda Claudio Ranieri, bisogna anche valutare la partita, bisogna capire se gli avversari ti prendono le misure, quindi magari cambiare assetto ci può stare in corso d'opera, però sicuramente l'idea nel 4-3-1-2, secondo me, è l'idea su cui dobbiamo continuare, e abbiamo avuto delle risposte assolutamente positive in questo match. Per quanto riguarda i singoli, ragazzi, l'ho detto, sicuramente menzione particolare per la Padula, che comunque trova la sua seconda doppietta consecutiva, 15esimo gol in Serie B, quindi veramente un Cagliari sempre più nel segno di Gianluca la Padula, grande partita di Mancoso, grande partita di Lella, come vi ho già detto, io rimensiono ancora una volta Azi, perché su quella fascia veramente è un fattore, in fin dei conti Azi è praticamente nei primi due gol del Cagliari, che sono quelli che appunto danno in là a questa vittoria roboante a Reggio Calabria, e poi comunque nel complesso ottima prestazione da parte di tutti, e anche di Radunovic, che ripeto, comunque ha risposto presente, due-tre interventi Radunovic li ha fatti assolutamente. Quindi ragazzi, contentissimo per questa vittoria, andiamo avanti così adesso due settimane di stop, quindi in cui Ranieri potrà lavorare con i ragazzi, con serenità, con tranquillità, ma con grande motivazione. C'è Cagliari su Tirol, bisogna assolutamente arrivare a quell'impegno con la testa giusta, perché abbiamo l'opportunità di accorciare su Tirol, che ha 51 punti, il secondo posto ragazzi sicuramente è complicato e difficile, il Genoa ha un gran bel vantaggio rispetto chiaramente al Cagliari, ma pensiamo partita dopo partita, step by step, e poi tra qualche settimana vedremo appunto dove saremo. Queste ragazzi sono le mie considerazioni, fatemi sapere le vostre, un commento qui sotto, un bel pollice in su, un'iscrizione al canale, e ci becchiamo presto con altri nuovi contenuti sul Cagliari. Un saluto a tutti e ovviamente forza Castello sempre. Ciao ciao.